Ennesima seduta del Consiglio regionale che si è conclusa con l'approvazione di uno solo dei 28 punti all'ordine del giorno, nello specifico l'Aula a maggioranza, con i voti contrari di Michele Iorio e Angela Fusco Perrella del centrodestra e di Patrizia Manzo e Antonio Federico del Movimento 5 Stelle, ha deliberato sulla modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione pari a 251 milioni di euro relativo agli anni precedenti e riaccertato attraverso la verifica dei residui attivi e passivi. Il relatore è stato il presidente della prima commissione, Domenico Dinunzio. In apertura dei lavori, il consigliere Domenico Ioffredi ha chiesto e ottenuto l'iscrizione della proposta di legge sul diritto allo studio da approvare, ha detto prima dell'inaugurazione dell'anno accademico, la normativa che introduce tra l'altro la possibilità di nominare nel Consiglio di amministrazione dell'ESU per la componente studentesca, non necessariamente un rappresentante dell'Unimol, ma anche delle università private, verrà discussa nella prossima seduta già convocata per venerdì. Subito dopo, i lavori dell'Aula sono stati sospesi per circa due ore, utilizzate in parte per incontrare i lavoratori dell'ATM senza stipendio da diversi mesi. I due presidenti, Paolo Frattura e Vincenzo Cotugno, insieme ai capi gruppo e all'assessore per Polo Nagni, hanno analizzato la proposta dei sindacati di gestione diretta del servizio, ma presunti ostacoli di natura tecnica hanno impedito di fatto ogni decisione di merito. Da segnalare infine la coerenza di Salvatore Micone, il quale, in sintonia con quanto dichiarato nell'ultima seduta di Palazzo Moffa, ha cambiato il suo posto in aula e si è seduto sulle poltrone assegnate al centro-sinistra. Come si ricorderà, Salvatore Micone era stato eletto nella lista di centrodestra, grande sud, sostenuto e votato all'epoca anche dal presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteisse. In passato, Salvatore Micone è stato relatore di minoranza nel consiglio monotematico dedicato alla GAM e si è distinto per la sua reiterata proposta di regolamentare il famoso articolo 7 per i portaborse su basi trasparenti e in sintonia con il modello europeo per contribuire, disse, a risolvere i gravi problemi occupazionali del Molise, dando lavoro ad una sessantina di collaboratori dei consiglieri regionali pagati ovviamente con i soldi dei cittadini e non con i loro stipendi.